Pessimo servizio navetta. È stato definito il collegamento da e per l'aeroporto di Alghero, in una lettera inviata ad uno dei principali quotidiani sardi da un passeggero scontento. Non solo le fermate sono state ridotte negli ultimi anni, e non solo non esistono panchine o servizi per i turisti che attendono sotto il sole d'estate o la pioggia d'inverno. A peggiorare le cose è l'assenza del collegamento notturno per alcuni voli che arrivano nella riviera del Corallo oltre le 23, ultimo orario disponibile per la navetta.